Scusa, l'altro è uscito dalla meta? Una è qui e una è su, credo. Ah no, una è qui e l'altra è giù, scusami. Giù? Sì, grazie. Bene, muova verso Via del Corso, molto mostro su Google Map. Questa strada è piena di monumenti, sia a destra che a sinistra. Questo percorso ti porterà dritto all'obiettivo finale, cioè Piazza del Popolo. Questa è il centro di città, c'è alcune strade e cose buone strade di questa strada, e noi proviamo a vedere la maggior parte di loro. Abbiamo ancora un po' di tempo per farlo. Ok, proviamo prima. Trevi Fountain Trevi Fountain è la più grande e più romantica fonte in la città La legenda dice che se fanno una città in una città tu farà sicuramente che tu dovrai tornare a la città se fanno due città, tu farà anche l'amore se fanno più, l'Empire, 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 l'Empire non funziona Questa lunga e bellissima strada per la Trinità dei Monti che è una città a la cima della città che possiede queste bellissime persone con molti città come puoi vedere La Pantheon è la più grande e più presa Pagan Tempel in il mondo, credo e ogni volta che qualcuno walks in la prima cosa domanda è se vuole o non ci si fanno insieme La risposta è sì, lo fa ma come ho capito prima, da un guide americano parlare con molti di turisti Inizio la Pantheon è riuscita 75% di meno che lo fa in inizio perché l'acqua è venuta tra le porte principali e spingendo l'acqua all'interno 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 F*** Affreddite è il tempo sta pescate mancano circa 8 minuti allo scadere dei 90 minuti quindi poco metti il peperoncino nelle ghiabbe negli U.A. Hai capito, sì? Siamo 7 minuti tardi ma credo che possiamo possiamo dire che abbiamo fatto un buon lavoro 1 ora e 37 minuti sono morto Good, good, good sei arrivato 7 minuti in ritardo però ma mi congratulo per te per la missione che l'hai portata al termine Aspetta un attimo eh Missione compiuta, bello Good The first come dicono in inglese un bacetto sul capezzolo sinistro 1 ora e 37 minuti we did a pretty good job come on come on 7 minuti o niente you can still take a train or plane and fly back to your city or to your next destination anyway this is the tenth landmark we're seeing today we're in Piazza del Popolo which is a pretty famous spot in Rome even though this guy doesn't look very Roman at all so now if you want and if you still have time you can get to the top of that terrace and you can basically get the same beautiful view that you would have gotten on the top of the white building down the street for 7 euros but you can get it for free up here so 1 ora and 37 minutes is a pretty good time to see most of the city I just want to give a big thanks to Pio who showed me the way and so I was able to give you a very local view of the city it was fun to make so I hope you guys enjoyed this video let me know what you think in the comments below let me know if I missed something let me know if you ever happened to be in a city for just a couple of hours and you wanted to see as much as you could so that's it I think hope you liked it I'll see you next time I'll see you next time